Credono in me? Chi? Loro come chi? Loro? Ah, loro! Sì, credono in me, mi stimano, investono su di me, sul mio intuito. Credono in me, loro. Senti, io credo in te. Davvero, ci credo. Sinceramente. E sono sicura che loro credono in me. Hanno ragione, credo in te. Senti, io voglio che diventi ricco. Voglio proprio che diventi ricco, che vi compri delle case e delle mutandine. Così sarò sicura che mi ammira, davvero. Senti, era solo una segretaria. Tutto qui, nienta. Come me. Come, come te. Che cosa sento? Anzi, una volta ero una segretaria. Lei era una che ci stava, una che ci stava. Tutte uguali le segretarie, ci stanno tutti. Come politici amano il potere. Quel po' di potere che hanno lo usano, lo fanno a casa, si attacchano il telefono, si chiacchiano con la lì, si fanno un sacco di risate. Senti davvero? Non credo di trovare emoti come me. Si sono cascato, lo metto. Riuscivo a farmi già andare attorno a un dito come quanto volevo. Buffo! Pensavo fosse lei a girare attorno al tuo, di dito. Tu non sai di cosa sono capace, quella ragazza, quella segretaria. Credo proprio di sì. Non è vero. E invece sì. Che significa che invece sì? Sono stata anch'io dietro a qualche schedaria. Come? Una volta, quando ero una segretaria giovane e provocante. Conosco bene gli schedari, sia davanti che dietro. Sì, davvero? Certo. Senti, se io avessi dei soldi di queste risultate, e sai perché? Perché che l'hai vente. Cos'è questa storia di schedaria? Ma niente, sono tutta di quando ero una segretaria giovane e provocante. Non lo farei più oggi, mai. Non se ne parla proprio. Sai com'è? È così eccitabile. Mi cita la licitazione. Ma non riferia adesso che sono una donna e non una ragazzetta stupida, leggera, maliziosa, porcellina, provocante, tutta risadine. Sai, a volte da quanto recitata, vogliosa e sculettante, non riusciva a passare da uno schedario all'altro. Gli uomini che riuscivano a fermi le mani di tossa era terribile, pretendevano di tutto. Ma tornate così disseri. Hanno ragione, credente, perché non dovrebbero credere.